A Scuola di Leadership per valorizzare il fattore umano presso il Dipartimento Ionico in Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo si è svolto il corso La Leadership Valori e Competenze, diretto dalla professoressa Maria Casola, finalizzato la comprensione del ruolo dell'importanza e delle dinamiche della leadership. Il percorso formativo, oltre ai professori Paolo Pardolesi, direttore del Dipartimento Ionico e Nicola Fortunato, ha annoverato tra i docenti il generale Fernando Giancotti, già presidente del Centro Altistudi per la Difesa, e la dottor Guido Ridoni, consulente e formatore manageriale in Europa, Stati Uniti e Asia. Un'attività formativa che tra gli altri ha ricevuto il patrocinio dei comuni di Taranto e di San Giorgio Ionico ed ha visto l'iscrizione di numerosi dirigenti degli enti pubblici. Le attività formative si sono concluse con un convegno dal titolo Leadership Innovazione e Sostenibilità, a cui hanno preso parte esponenti delle Forze Armate e del mondo accademico. Paolo Pardolesi, un convegno sulla leadership che è stato veramente seguitissimo e in maniera eccellente perché ha riscosso un successo enorme fra tutti i dirigenti che lo hanno frequentato. Assolutamente, è stata un'occasione straordinaria di collaborazione con il CASD, da parte del Dipartimento Ionico, con il patrocino del Comune di Taranto e di San Giorgio e soprattutto l'occasione per dare un contributo nella formazione della nuova classe dirigente, andando a declinare il concetto di leadership, che è un concetto complesso, fa parte della complessità e quella che è un'accezione fondamentale non solo autorità, spesso lo si confonde con l'autorità, ma l'autorevolezza. E poi legato ai concetti di innovazione e sostenibilità che sono fondamentali ormai in tutte le pubbliche amministrazioni. Ormai non è più pensabile gestire, tra virgolette, la cosa pubblica senza tener conto di questi due elementi fondamentali, proprio perché consentono una gestione lungimirante e quindi è fondamentale porre l'accento su questi due elementi. Generale, questo è stato un corso apprezzatissimo da tutti coloro che l'hanno frequentato, sia per ovviamente la varietà delle nozioni che avete offerto, ma anche perché il concetto di leadership associato ovviamente alla sostenibilità e all'innovazione è diventato fondamentale in tutte le pubbliche amministrazioni. Sì, questo tipo di investimento che voglio sottolineare è stato progettato, concepito e richiesto qui sul territorio e questo è un dato fondamentale perché si vede che c'è volontà di crescere in questo senso. Beh, questo tipo di investimento è assolutamente centrale oggi quando un mondo in rapidissimo sviluppo ci sfida in molti diversi modi, specialmente le pubbliche amministrazioni. In questo cammino qual è il plus che viene offerto dalle forze armate dal fatto di appunto avere un concetto di leadership che ovviamente è consolidato all'interno della forza armata? Il vantaggio è che come lei stessa ha detto, nelle forze armate la leadership è una capacità assolutamente fondamentale e esistenziale perché ne va della vita e della morte delle persone, quindi più che in altri ambiti c'è sensibilità. Per questo è stato fatto nel tempo un investimento su formazione di qualità e formazione innovativa. infatti questo corso non ha visto soltanto lezioni frontali, anzi è stato incentrato proprio nello sviluppo e nell'autosviluppo dei gruppi sulla scorta degli stimoli che sono stati forniti ma con una, diciamo, mutua formazione dei membri e da questo tipo di dinamiche non solo emerge sapere ma emerge anche voglia di fare che è quella che serve perché senza quella non si fa niente.